Passato il clamore dello scoop, le notizie perdono di interesse e le soluzioni ai problemi restano disilluse. L'impegno di TV7 alle 7, trasmissione del mattino in onda dalle 7 alle 10 su TV7 Triveneta, è quello di non dimenticare raggiungendo in diretta le persone, dando eco ai problemi del quotidiano. Nulla è cambiato dopo le proteste degli autotrasportatori che recentemente hanno lottato contro lo Stato per migliorare le condizioni economiche e di vita della categoria. Come potete vedere alle nostre spalle gli operatori del settore stanno caricando e scaricando le varie merci. Abbiamo capito che una delle problematiche della vita dell'autotrasportatore è la velocità nel ritiro e nelle varie consegne. Abbiamo sentito anche in televisione spesso lamentare gli autotrasportatori sulla questione delle accise sulla benzina. Loro però hanno avuto la fortuna e l'agevolazione da parte del governo di avere il rimborso trimestrale. Però il nostro Floriani ci dice che sarebbe ancora meglio averla mensile. Perché sono dei soldi che si tirano fuori prima e quindi già il problema è grave perché le tariffe sono molto basse. E anticipare ulteriori soldi vuol dire averne sempre meno a disposizione dello svolgimento del lavoro quotidiano. Sfruttati o non sfruttati è un lavoro veramente duro. Non so se Cristian riesci a far vedere ai nostri telespettatori che questa è una tenda che copre la cucetta dove voi spesso e volentieri durante la notte o quando siete in pausa, quando siete fuori appunto per servizio, per lavoro, dormite. Neanche in questi giorni purtroppo è stato ritrovato un vostro collega completamente assiderato, quindi ahimè morto, per il maltempo. È una vitaccia Giuseppe? È una vita che se uno lo fa perché ha la passione riesce a farlo, ma se per i soldi in questo momento proprio no.